Ciao! Oggi facciamo aggettivi comparativi e superlativi in inglese. Iniziamo con gli aggettivi comparativi che sono un po' più difficili in inglese. Perché? Perché dobbiamo sapere come fare lo spelling eppure se dobbiamo usare more prima dell'aggettivo o no. Lo diamo insieme. Allora, questa è la stessa cosa di dire mio fratello è più veloce, più veloce di te. He's faster than you. Ok? Vediamo insieme come fare questi aggettivi comparativi in inglese. Se la parola ha una sillaba, aggiungiamo er, er alla fine della parola. Allora, se abbiamo fast, diventa faster, con er alla fine. Cold diventa colder. Se abbiamo una parola con una sillaba che finisce con i. Aggiungiamo er alla fine. Allora, nice, che finisce con i. Aggiungiamo er alla fine. Allora, nice diventa nicer. Strange diventa stranger. Se abbiamo una parola di una sillaba con la forma consonante short vowel, short, e poi un'altra consonante, dobbiamo fare questo. Ma prima facciamo un recap dei short vowels. Andiamo qua. Recap di questi short vowels, della pronuncia. Allora, così sapete. Hot. Head. Hot. Hit. Hut. Allora, torniamo qua. Big perché c'è una consonante, poi short vowel che è e, e, poi un'altra consonante. Dobbiamo doppiare l'ultima consonante che è il c e aggiungiamo er alla fine. Quindi aggiungiamo questo, poi aggiungiamo er che diventa bigger. Hot diventa hotter. Una parola con due sillabe che finisce con y alla fine. È facile. Questo è facile. Togliamo y e aggiungiamo i, e, r alla fine. Crazy diventa crazier. Happy diventa happier. Parole con due sillabe o tre o quattro o cinque. Cioè, diciamo more. Come in italiano diciamo più, diciamo more in inglese. Prima dell'aggettivo. Quindi, interesting, più interessante, di, diventa more interesting than. More interesting. Expensive diventa more expensive. E queste sono le eccezioni, scusa, comuni. Good diventa better. Bad diventa worse. Far diventa farther oppure further. Poi, vediamo la forma della frase degli aggettivi comparativi. In inglese facciamo il soggetto, poi il verbo, poi l'aggettivo comparativo, più than. Non è than. Non è than. È than con la A. Quindi, Mark is more studious than Alex. Than Alex. Mark è più studioso di Alex. This house is smaller than my last house. Your cat is crazier than Kim's cat. Va bene, questa è facile, no? Però dobbiamo sapere, quando abbiamo questo aggettivo, vogliamo usare questo aggettivo per farlo in modo comparativo. Dobbiamo usare questa tabella qua, che la parola è studious, quindi due sillabe o più, e non finisce con la Y. Quindi, dobbiamo mettere more prima. Allora, usate questa tabella per fare gli aggettivi comparativi, insomma. Quindi, però, adesso torniamo al grande mistero della lingua inglese. Per il secondo me. Perché, perché non sappiamo quando usare than I, than me, mio telefono, than he, than him, than we, than us, than they, than them, than them, scusa. Guardiamo insieme. Questo è un po' un po' difficile a capire, però guardiamo insieme. Qua, davvero diciamo che le piace la duppa più che piaccia a te. Dobbiamo, questo, stai zitto, mannaggia. Quindi, scusate. She enjoys soup more than me. Che piace? Le piace la duppa più che piace a te. Dobbiamo dire she enjoys soup more than I. Però, in inglese non diciamo questo. Quando parliamo non diciamo more than I, diciamo more than me. Per la grammatica di questo, davvero dovremmo dire more than I. Però, questo non suona tanto bene. Cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Se vuoi parlare così, così, nessuno ti dirà niente se dice more than me. Va bene. Infatti, guardiamo insieme qua sotto che il sito di Cambridge dice di mettere more than me. Però, secondo me, non è tanto corretto. Però, se vuoi mettere I o dire I, è meglio mettere il verbo alla fine. Va bene? Come qua. He is older than she is. Meglio mettere il verbo alla fine perché questo suona meglio. Questo suona meglio. Se vuoi dire he is older than her va benissimo. Però, c'è questo debate della grammatica in inglese e ragazzi, la lingua non è una scienza. Abbiamo certe cose che non sono così concrete. Però, dipende dal test che fai, fai la ricerca del test perché qua, come Cambridge, loro dicono che dice you're stronger than, scusa, non si dice you're stronger than I, si dice you're stronger than me. Però, puoi dire you're stronger than I am. Pure questo, certi dicono che non è corretto. Allora, decidete voi se... perché questa è una cosa, è un mistero della lingua inglese, insomma. Allora, leggi cosa ho scritto. E... sì, decidete voi. Questo è un mistero. The mystery might never be solved, but such is life. Questa è la vita. Questa è la vita. Allora, io suggerisco di usare... Quando parlate than me, than... than him, than us, than them. Però, se volete usare essere correttissimo e che nessuno dirà niente, puoi usare il verbo alla fine, dopo il soggetto, come he's stronger than I am. Questo è correttissimo e nessuno dirà niente. Allora, fate questo. Questo suggerisco. Poi, passiamo ai superlativi, che è un po' più facile, secondo me. Allora, le parole di una sillaba. Metti est alla fine. Fast diventa the fastest. Cold diventa the coldest. Noi usiamo per il... il più grande, la più grande. Usiamo da. Allora, metti da. The fastest, the coldest. Una sillaba che finisce con I. Aggiungiamo ST alla fine. Quindi, nice diventa nicest. Strange diventa the nicest. Strange diventa the strangest. Una sillaba. Consonante. Short vowel, consonante. Come ne abbiamo parlato prima. Dobbiamo doppiare l'ultima consonante. Però, per i superlativi, mettiamo EST alla fine. The biggest. The hottest. Due sillabe che finisce con Y. Togliamo il Y. E mettiamo... I, E, S, T. I, E, S, T. Crazy diventa... Craziest. Happy diventa Happiest. Due sillabe, tre sillabe, quattro sillabe senza il Y. Dobbiamo mettere most. The most. Il più. The most. Interesting. The most expensive. Va bene. E eccezioni. Good, the best. Bad, the worst. Far, the farthest. Oops. The farthest, the furthest. Va bene. Poi la forma è qua. So, oggetto più verbo, più da, più superativo, più oggetto. February is usually the coldest month of the year. That's the worst thing you could have said. This is the most expensive store in the world. He is the best candidate for the job. Quindi, usate questa tabella qua per sapere come formare il superlativo. Poi questa forma qua per formare la frase. Passiamo all'esercizio, scusa, all'esercizio. Grazie ragazzi. Mettete mi piace, Facebook, tutte queste cose. E come sempre, God bless. Vi do le risposte, pause il video, fate l'esercizio e poi vi do le risposte. Grazie. Ecco le risposte. O sì, e mettete sia il superlativo, sia il comparativo. Dipende dal contesto della frase. Grazie. 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 Grazie.